Il nostro pianeta si chiama Terra, ma la sua superficie è composta per lo più d'acqua. L'acqua scorre in noi ed è la forza motrice della natura. L'acqua è cibo, prosperità, energia, vita. Da sempre è l'elemento alla base della nostra alimentazione. Ma ancora troppe persone non ne hanno accesso, mentre altre la danno per scontata. La rapida urbanizzazione, la crescita demografica ed economica e il cambiamento climatico mettono in crisi le risorse idriche. Il cibo che consumiamo e il modo in cui viene prodotto hanno ripercussioni sulla disponibilità e sulla qualità dell'acqua. Con la trasformazione dei sistemi alimentari possiamo migliorare l'efficienza idrica e tutelare i mari e i corsi d'acqua. Insieme possiamo avere cura delle nostre acque e coltivare un futuro sostenibile. L'acqua è vita. L'acqua ci nutre.